Musica 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 Ritorniamo un po' alle origini di questa città. Ecco, cosa ha scoperto di importante di Licata, di questa terra particolarmente bella? Io non ho scoperto ancora niente. In che senso? Ritornando alle origini qualcosa deve essere emerso da questo studio? Io vedo che il giovane è un pochino, c'è una gioventù diversa da quando ero giovane io, questo sì, più intelligente, più volenteroso, pronta, però avete una riccia attaccata a una caviglia tupede e ci vuole tempo per lavare l'altra. Però c'è quel filo di speranza, i giovani di oggi delle cata che hanno quella voglia di nascere di questa cadina attaccata a mio pello. Scusami, ma io la penso così. Me ne spiace, io sono quella che dico quello che penso. Ecco, il canto popolare oggi, se dovessimo fare una classifica tra i vari generi, dove lo possiamo collocare? In tutte le parti, in tutte le parti. Nel lavoro lo puoi collocare, nel lavoro lo puoi collocare, nell'immigrazione lo puoi collocare, nella società di oggi lo puoi collocare. No, no, parlavo un po' di generi musicali, no? Io parlo del mio genere. Sì, dico, ma se dovessimo fare una classifica, per esempio, una hit parade dei generi, al primo posto metteremmo per esempio il rock? Questo è razzismo, io non mi va a dire queste cose, perché ci sono giovani che piacciono il rock, ci sono giovani che piacciono il ballo liscia, come fai? Non si può fare una classifica. No, io credo di no, però io posso dire solo della mia musica, che poi non è mia, è del popolo. Le mie canzoni sono canzoni che magari a certi giovani ne va bene, a certi giovani no, perché sono più avanti. Però la mia storia, siccome la storia non la puoi seppellire mai, rimarrà finché il mondo ci sarà. Allora, difendo la mia musica, accettando anche l'altra, per carità, anche io vado a ballare un pochino, come fa? Un po' di rock e rock, il charleston, il super... E qual è la musica che più piace di Rosa Battistrieri dopo il popolo? Mi piacciono i canti dei negri, allora si, mi commuove, mi piacciono i canti della Maria Rodriguez, questi, mi piacciono i canti della Maria Betania, mi piacciono i canti della Odetta, l'americana, dove hanno qualcosa da dire, come io. Ecco, qual è la canzone che più ama Rosa Battistrieri, tra tutte le canzoni che ha scritto? Io amo tutte le canzoni, non ce n'è una in particolare che ti posso dire, quella... Io ogni canto che ho trovato e che ho riportato a farlo sentire agli altri, a me mi viene la peneroga. E quella, ci sarà una canzone che però sente più sua rispetto alle altre? Beh, la più bella, e mi vuole tenere molto. La sogniamo, per certi anni. No, ancora, per tanti anni sono rimasta sola. Ed è brutto, questa canzone ha scritto un carcerato che non si sa, è anonima, ma si sa soltanto tramite libri che sono in biblioteca qui a Licata, un carcerato a Palermo dove non era ancora a carcere, né vicaria, era vicariato, dove venivano legati questi carcerati ai piedi e così gli davano da mangiare buttandocelo così come i cani. E questa amava una donna, ma siccome lui sapeva che non usciva più, ha scritto queste parole. Io l'ho trovata e ci ho messo una musica. È un uomo che parla della solitudine, capito? La solitudine è brutta. Si può cantare la solitudine? Sì. Secondo le persone c'è chi la scrive, c'è chi la canta e c'è chi si sta molto e muore lentamente. Allora, sentiamo questa canzone. La solitudine è brutta. 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 Qu'all'ilugna il cielo si aprirà a lì Tu sarò un cuore un paio di all'alanzaggio Qu'all'urà vita mia il sonore a la a i i i i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poco fa abbiamo parlato della Baronessa di Carini che dal punto di vista del successo mi pare che è stata la canzone che ha dato più successo a Rosa Beristreti, quella più conosciuta, quella più importante. Come ricercatrice sì, io dovevo fare soltanto la colonna sonora dello sceneggiato di, come si chiama, la parte Gigi Proetti. E mi ricordo che io avevo una musica perché la mia musica è più antica. non ha bisogno di tanti... Grazie. 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 Grazie.